Ok, adesso questo è un pezzo un po' speciale, vorrei chiamare di nuovo Franco? Come on! Allora, questo è un pezzo un po' particolare per me perchè... io ho avuto modo di registrare questo pezzo con quei signori che vedete lì che sovrasta un po' la mia immagine visto che è molto più nero di me quindi non so neanche se tu hai mai avuto un idolo da giovane io ero un bambino un po' strano, avevo come idolo quella persona lì, no? pensa che una volta ho chiesto al pubblico voi avete avuto mai un idolo nella vita? uno si è attaccato e mi ha detto io sono Silvio Berlusconi ci siamo fermati lì visto che vorrei condividere con voi questa cosa potremmo suonare il pezzo sì meglio però ci sono già troppe persone che su questo palco che non siano la nazione quindi un sistema ce l'ho è un po' di più è un po' di più Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.